Un tesoretto da 6 milioni di euro. E quanto vale l'assestamento di bilancio del Comune di Vicenza che porta nuove risorse sul piatto da investire in opere pubbliche e progetti strategici? Mettiamo tante risorse, perché mettiamo 2 milioni e 400 mila euro per finanziare gli extracosti per i progetti PNRR che è un grande problema che ci troviamo ad affrontare. Ci sono 1 milione e 200 mila euro per finire o quasi la centrale del latte che è un altro cantiere che è dilattato tantissimo nei tempi e nei costi e anche 280 mila euro per chiudere la partita dell'ex ACI dove andrà l'università, quindi aiutare Vicenza a diventare sempre di più una città universitaria. Ma ci sono anche risorse importanti dopo tanto tempo sulla videosorveglianza, per cui 85 mila euro per nuove telecamere che andranno dal quartiere di Santa Lucia fino al seminario, fino a Ponte degli Angeli per andare poi a Ponte Furo in zona Eretenio per cui si allarga la rete delle telecamere della videosorveglianza in città. Per quanto riguarda i 2,7 milioni di euro accantonati dall'ex giunta di centrodestra per la biblioteca bertogliana verranno smaltiti per consentire al Comune di accedere ai fondi stanziati dal Governo per fronteggiare gli aumenti dei costi dei cantieri del PNRR. I 2,7 milioni verranno invece spostati sui mutui. Si utilizza invece quello che è il denaro accantonato per la biblioteca bertogliana che viene spostato quindi con mutui che si possono far partire l'anno prossimo in più proprio perché quando ci sarà l'idea chiara, definitiva, ecco che lì ci sono le risorse. Insomma, una manovra che permette di fare un nuovo piano urbanistico è il piano universitario. 600 mila euro poi andranno a sostegno dell'organizzazione della Donata Nazionale degli Alpini nel 2024. È un assestamento di bilancio che mette in sicurezza delle opere importanti, delle necessità e dall'altra è un bilancio che ha anche un po' di prospettiva, un po' di visione e serve molto guardare il futuro e costruire il futuro. Grazie. 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 Grazie.